Buongiorno, è sabato 29 dicembre 2018, pronti per vedere le notizie salienti che hanno contraddistinto la giornata di ieri attraverso i servizi del Tg6, ma soprattutto attraverso le pagine dei quotidiani locali e nazionali. La rassegna stampa inizia con le quattro edizioni del centro, la prima della città e la prima del messaggero. Subito sulla prima del centro, edizione di Pescara, l'apertura, Rigopiano, l'ombra del depistaggio, morti sotto la valanga, l'ex prefetto e altri sei indagati, il giallo del pizzino strappato. Sotto la testata, autostrade, aumenti contestati, pedaggi a 24 e a 25, spunta richiesta ANAS che conferma i rincari. E poi Regione, voto del bilancio di Dalmazio può salvare la maggioranza. Verso le elezioni regionali, Roseto salta l'incontro tra Legnini e Marsilio. Scendiamo, andiamo a centropagina, intanto la politica nazionale, caos alla Camera, lancio di libri, rissa sfiorata tra PD e governo. La fotonotizia, la piccola Gaia scrive alla mamma morta nel resort, la letterina di Natale della bambina di 7 anni. Di spalla altri richiami, intanto a Pescara, Penne e Popoli, ospedali, ecco i rinforzi, quattro tac e la risonanza. Sempre a Pescara, stop ai fuochi d'artificio per dieci giorni. Francavilla, nuova piscina, l'inaugurazione in primavera. E poi ancora la cronaca con i fatti di due giorni fa, assalto in gioielleria e caccia a due auto, il colpo in centro a Pescara, Portanova, rapina in tabaccheria, presi i banditi. E poi in basso per lo sport serie B, domani l'ultima di andata, Pilon vuole il botto di fine anno, il Pescara a Salerno per superare l'obiettivo dei 30 punti. E poi in basso il sondaggio è Tarquini, Gabriele Tarquini, lo sportivo abruzzese dell'anno. Vediamo l'edizione terramana del centro, anche in questo caso troviamo lo stesso titolo d'apertura legata appunto a questo nuovo filone dell'inchiesta su Rigopiano e poi la medesima fotonotizia. Allora i richiami, il bilancio 2018 ASL in un anno 600 assunzioni, ma non bastano. E poi sempre nel terramano a Tortoreto, tir perde fusti, disolvente, terrore in A14. A Roseto Vannucci entra nella giunta come esterno. E poi ancora in basso i familiari potevano salvare Daniele. Santomero la rabbia dei congiunti del giovane trovato morto dopo quattro anni. Poi in basso per lo sport, in questo caso c'è il basket in primo piano. Roseto fa il colpo a Ferrara, gli Sharks vincono di 30 punti, classifica rassicurante. 59-89 è la vittoria della squadra di coach d'Arcangeli ieri a Ferrara contro la Bondi. E adesso l'edizione di Chieti Lanciano Vasto del centro con i richiami. McDonald's apre allo scalo, via ai lavori. Arriva anche a Chieti Scalo il colosso dei panini. McDonald's i lavori davanti allo stadio Angelini sono già iniziati. Apertura a metà del 2019. E poi a Vasto l'autovelox è pronto e sarà sempre acceso. Di nuovo a Chieti, addio a Stella, fotografo morto a soli 35 anni, stroncato da una leucemia fulminante. In basso di Iorio, 30 anni di presepi. L'artigiano espone i suoi pezzi fatti a mano, ma non li vendo in mostra a Chieti il fascino della natività. L'edizione aquilana del centro, ancora con i richiami, code di due ore al CUP, in fila anche Cialente. Pochi sportelli aperti a causa delle ferie natalizie. Ieri mattina al CUP del San Salvatore, code di due ore, in fila c'era anche l'ex sindaco Cialente. In chiesta di Capistrello, consiglio sciolto e comune commissariato. E poi ancora a Sulmona il messaggio, il Vescovo uniti su tribunale e punto nascita. E poi ancora, sempre all'Aquila, cade per 150 metri grave alpinista, incidente a Monteocre. Solo ferite lievi per il compagno di Cordata. E poi ancora, per il calcio di prima categoria, le 14.30 con il cesa prova all'Aquila. In campo nel recupero, ha scoppito la capolista prova ad allungare il vantaggio. E siamo ora alla prima del messaggero Abruzzo, con il titolo d'apertura. Rigopiano ci fu depistaggio, sette indagati nell'inchiesta bis partita dalla telefonata cancellata dal brogliaccio. Nei guai, l'ex prefetto Provolo, due vice prefetti e dirigenti del coordinamento soccorsi. E poi una serie di richiami sotto la testata. Intanto il caro pedaggi, autostrade, l'ANAS blocca tutto. Rincari più vicini. Direttanti l'Aquila, istituzioni assenti con la matrice. E poi per la serie B, Pescara saluta Luca Leone, sarà il nuovo DS a Terni. Il Delfino nel mercato di Genero sarà rappresentato da Sebastiani. Pilon a Salerno sarà una battaglia. Oddo esonerato dal Crotone. E poi ancora, di spalla, maggioranza senza numeri, salta la seduta sul bilancio del Consiglio all'Aquila. E poi ancora, rinvio all'ultimo giorno dell'anno, Febbo e Sospiri all'attacco. Se ne riparerà appunto il 31 per la discussione e l'eventuale approvazione del bilancio in Regione. Poi la fotonotizia, il giallo di Tortoreto, morto dopo una lunga agonia nell'auto. E poi sempre in taglio medio, tagli del Governo a rischio, la sede del Maxi all'Aquila, l'allarme lanciato dalla Presidente Melandri. Pesanti ombre sul progetto a Palazzo Ardinghelli. E poi il libro con il cantautore Mimmo Locasciulli. Locasciulli è la sua penne. Proseguiamo e siamo sulla prima della città. Vediamo il titolo d'apertura. Il Capodanno in piazza resta blindato. Conta persone al posto dei braccialetti, massimo 4.000 accessi, vietati botti e spray al peperoncino. E poi sotto la testata leggiamo. Union Alpha chiude la sede di Campli. 17 lavoratrici a rischio nel licenziamento. L'unica alternativa è il trasferimento di 60 chilometri nelle Marche. E poi ancora a centro pagina, trappola in A14. A Tortoreto tir perde il carico incidente con sostanze pericolose. Poi una serie di richiami. Rigopiano, telefonata scomparsa, altri 7 indagati per depistaggio e frode. Roseto degli Abruzzi, palestra di Cologna, bocciata mozione di casa civica. E poi ancora il giovane scomparso, autopsia ed esame del DNA per chiarire il mistero Taddei. Di nuovo a Roseto, Orazio Vannucci, assessore esterno all'urbanistica. E poi ancora per la politica, altra figuraccia per il PD, Terramano. La Marcozzi dice no e si candida in tandem con D'Amico per Legnini. In basso, Giulianova, il commissario soldato scopre e salda debito sul sociale. Poi per il basket di A2, Roseto distrugge Ferrara in trasferta. 59 a 89. Andiamo ora con le prime pagine delle testate nazionali. Siamo su Repubblica, caos alla Camera sulla manovra, soldi al nord, Lega e 5 Stelle divisi. La maggioranza pensa a un rimpasto, Tria di nuovo in bilico. Il PD protesta e torna in piazza. E poi ancora il caso. Vitalizzi accolti, quattro ricorsi. Sospeso il taglio agli assegni. A centropagina la fotonotizia, guerriglia e narcos, i vecchi fantasmi della nuova Colombia. E poi ancora l'inchiesta dopo la morte dell'Ultra, prima di Inter Napoli. Un agguato con firma fascista. Salvini, non chiudere gli stadi. Siamo sulla prima del Corriere. Ecco l'apertura, manovra rissa alla Camera. Conte tagliando al contratto e rimpasto. Poi si corregge sulla squadra. Insulti, spintoni, lancio di Faldoni. Fico sospende la seduta. Il PD ricorre alla consulta. E poi ancora a centropagina la fotonotizia. Amos Oz, addio a un gigante della letteratura. Amava Israele, voleva la pace. E poi in taglio medio, le parole del vicepremier Salvini. Salvini contro il giudice sportivo. Un errore, chiudere gli stadi. Che cosa si sa della battaglia tra i tifosi. Proseguiamo e siamo sulla prima della stampa. Il risico del governo. Tria rischia. Conte, non esclude un rimpasto. Mire della Lega sulle infrastrutture. Ma i 5 Stelle difendono Toninelli. Manovra la camera tra risse e insulti. Oggi la fiducia. Domani il via libera. Il verdetto TAV in primavera. E poi ancora una scuola nel nome di Bannon. Per sfornare corsi sovranisti. Per sfornare i futuri Salvini. E poi legali contro l'operazione Scoiattolo. Berlusconi stoppa la campagna acquisti nel Movimento 5 Stelle. Poi la fotonotizia. L'anno peggiore delle borse. In Italia bruciati. 100 miliardi. Avanti ancora. Siamo sulla prima del manifesto. Camera ardente. Questa l'apertura. Il governo blinda la manovra. Alla camera scoppia la rissa. Urla spintoni. Lancio di fascicoli tra i parlamentari. Il PD monta la protesta. Ma l'esecutivo è sordo. Fico in imbarazzo. Nessuna discussione degli emendamenti. Stasera il voto di fiducia. Domenica l'atto finale. E poi dopo gli scontri di Milano per Inter-Napoli. Salvini sbagliato chiudere gli stadi. Proseguiamo. Siamo sulla prima del fatto quotidiano. Dopo Genova. Autostrade. Il cavillo sepolto per la revoca col maxisconto. Una vecchia delibera rafforza il governo nello scontro con i Benetton. Già 11 anni fa il Comitato per gli investimenti chiedeva di eliminare l'indennizzo automatico basato sui ricavi futuri che oggi la società pretende se perde la concessione. E poi sotto la testata Salvini è pro ultra e la Juve è catartici gli slogan razzisti dopo la morte del capo della curva. Chiusure sbagliate. Il ministro smentisce la lineatura dei suoi prefetti. L'agguato ai tifosi napoletani è la pista neofascista. Agnelli. Leggete il nostro dossier nel quale però si sostiene che l'insulto territoriale va tollerato. E poi ancora a centropagina bagarra la camera, insulti e spintoni. Conte difende la manovra. Rimpasto di Maio irritato. La prima pagina del tempo. Ecco l'apertura. Rifiuti e buche tocca solo alla Raggi. Il premier Conte frena sull'ipotesi di utilizzare i soldati per risolvere i drammi di Roma. Nella conferenza di fine anno gaff sulle pensioni. Giallo su un rimpasto dell'esecutivo. E poi sotto la testata a Mosca Papa Francesco è popolarissimo, esclusivo. Parla Avdeyev, ambasciatore russo presso la Santa Sede. E svela i giudizi di Putin su Italia e Vaticano. La fotonotizia nel tempo di Osho. Altre grida e rissa alla camera. Fiano capo degli ultras del PD. E poi di spalla emergenza continua nella zona est. Il Natale della Capitale. Ancora roghi tossici e nomadi scatenati. Il messaggero. Ecco il titolo d'apertura. Tasse più alte. Ecco chi paga. Aumenti per banche, assicurazioni e imprese. Incognita imposte locali. Conte. L'IVA non crescerà. Manovra rissa in aula. Oggi fiducia. Domani voto finale. Il Premier apre a rimpasto il nuovo contratto. E poi ancora sotto la testata per lo sport. Discesa libera. Due jet azzurri sugli sci a Bormio. Trionfano pari se in Hofer. E poi il pianto del Divo. Il Natale speciale di Keanu Reeves. A Roma in visita alla sorella malata. Poi a centropagina la fotonotizia. Bomba sui turisti alle piramidi Egitto. Ordigno a Giza. Morti due vietnamiti e una guida locale. Poi ancora a centropagina sempre. In taglio medio. Costa. Rifiuti a Roma. Nessuno si tira indietro. Ci sarà il commissario. Intervista al ministro. I cittadini accettino i nuovi TMB. Appello di Conte. La capitale torni là. La vetrina del paese. La prima pagina della verità. Governo senza pace. Le strane manovre dei Benetton. Per rimettere le mani sul ponte. Dai violentissimi attacchi del governo. Contenuti nel ricorso al tribunale. Alle sospette acquisizioni di aree. Sotto i monconi del Morandi. Così Autostrade vuole rientrare in gioco. E pretende l'aumento dei pedaggi. E poi la fotonotizia. Con il protagonista. Suomo al grado della vicenda. Nell'ultimo turno di campionato di Serie A. Coulibaly consolato dall'interista Samoa. Razzismo, fascismo. No, ultra idioti. Ma la sinistra sbiella. E poi che errore chiudere gli stadi. E come sparare nel mucchio. In taglio medio. Il PD ha svenduto Leonardo alla Francia. Franceschini ordinò di dare le opere del genio italiano ai parigini. E non intralciare le loro celebrazioni. Andiamo con la prima di avvenire. Siria, ultimo atto dopo il ritiro degli Stati Uniti. I kurdi consegnano ad Assad la città di Mamji. Spiazzata la Turchia, già pronta con le sue truppe. Mosca appoggia la svolta verso i nuovi assetti nel martoriato paese. in seguito alla scelta del disimpegno fatta da Trump. E poi, a centropagina, dai cara ai caporali, il paradosso a causa del DL Sicurezza. In Puglia e Calabria già pieni i ghetti dei braccianti. E poi ancora, in taglio medio, rissa per la fiducia alla manovra. Alta tensione alla Camera. Oggi il vuoto. Il governo fa cassa con l'azzardo. Siamo con la prima del mattino. Agenti infiltrati in curva contro razzisti e violenti. Incidenti a Milano proposta al Vaglio del Viminale. Stadi chiusi. Nodi Salvini. Napoli in campo. La festa per Coulibaly. Tifosi e compagni con la sua maschera. E poi, ancora, effetto manovra. Ecco chi pagherà la stancata tasse. 13 miliardi in più in un triennio. Oggi la fiducia a Conte apre al rimpasto. E chiudiamo con il sole 24 ore. Sorprese fiscali. Rischio aumento IMU nell'80% dei comuni. E poi ancora incrementi possibili, soprattutto nei centri medio-piccoli del nord. Mini condono. Stracciate 12 milioni di cartelle per 5 milioni di utenti. E poi ancora, manifatturiero. Le due facce del 2018. Produzione di robot più 6,6%. Vendita armi all'estero meno 50%. E poi, sempre in taglio medio, pensioni con quota 100 incentivo all'impresa che assume un giovane. Possiamo lasciare i quotidiani nazionali. Andiamo ora sul centro. Dunque, torniamo ai quotidiani locali. Andiamo a sfogliare le pagine interne. E, peraltro, vi stiamo anche per proporre il primo servizio di questa edizione di Mattino 6. legato alle pagine che stiamo per vedere, pagina 2 in particolare, del centro. Rigopiano sotto accusa in 7 per depistaggio. Un pizzino strappato getta ombre sull'ex prefetto Provolo e altri funzionari per i carabinieri forestali diventa la prova della richiesta di aiuto occultato. E poi, chi era uno dei 29 morti, Gabriele D'Angelo, il cameriere che lanciò l'appello inascoltato. E poi, ancora in basso, il secondo documento in mano all'accusa. La funzionaria svelò tutto. Ecco il verbale con le frasi. Sempre poi in riferimento alla tragedia di Rigopiano, Gaia affida a Babbo Natale la lettera alla mamma morta. Valentina Ciccioni, infermiera e una delle vittime della tragedia del resort, il marito è Giampaolo Matrone, fu estratto vivo dalle macerie dopo 62 ore. La bambina ora ha 7 anni e al papà ha detto forse Gesù aveva bisogno di una dottoressa alla lettera. La piccola ha legato due foto per far vedere alla mamma che stiamo qui e stiamo bene. E allora, vediamo il servizio del TG6 su questo nuovo filone legato a Rigopiano. Nuovo fascicolo d'indagine sulla tragedia dell'hotel Rigopiano. La procura di Pescara ha infatti notificato sette avvisi di garanzia per il reato di frode in processo penale e depistaggio a carico del personale della prefettura di Pescara, compreso l'ex prefetto. Le accuse che vengono mosse sono quelle di aver occultato il brogliaccio delle segnalazioni del giorno 18 gennaio 2017 alla squadra mobile di Pescara per nascondere la chiamata di soccorso fatta alle 11.38 dal cameriere Gabriele D'Angelo al centro coordinamento soccorsi. L'indagine è guidata dal procuratore capo della Repubblica di Pescara Massimiliano Serpi e dal sostituto procuratore Andrea Papalia con i carabinieri forestali di Pescara guidati dal tenente colonnello Anna Maria Angelozzi. Tra gli indagati l'ex prefetto Francesco Provolo e i due vice prefetti distaccati Salvatore Angieri e Sergio Mazzia. Con loro i dirigenti Ida De Cesaris, Giancarlo Verzella, Giulia Pontrandolfo e Daniele Acquaviva. Salvatore Angieri oggi è l'attuale vicario del prefetto di Macerata mentre Mazzia è il vicario del prefetto di Crotone. Gli investigatori del gruppo Carabinieri di Pescara stavano indagando su tale vicenda già da un anno dopo l'acquisizione di un'inedita conversazione avvenuta tra un carabiniere della sala operativa di Pescara e la funzionaria della prefettura Daniela Acquaviva balzata a suo tempo alle cronache per la telefonata nella quale proferiva la frase La mamma degli imbecilli è sempre incinta in cui dice al carabiniere che l'intervento sul rigopiano era stato fatto in mattinata riferendosi proprio alla telefonata pervenuta da Gabriele D'Angelo è ipotizzabile che D'Angelo abbia chiesto l'evacuazione della struttura dopo le scosse di terremoto che avevano interessato la zona Ed ora la politica pagina 11 del centro Legnini, Marsiglio, Cena senza confronto a Roseto da Benigno d'Orazio salta il primo faccia a faccia diretto tra i candidati presidenti oggi arriva Meloni poi tocca a Salvini Sara Marcozzi lancia la due giorni di firma dei per ufficializzare la sua candidatura e poi ancora si entra nel vivo verso le regionali ma in questo caso si parla di bilancio in regione Abruzzo Di Dalmazio può salvare la maggioranza mancano i numeri il consiglio sul bilancio slitta tra le polemiche al 31 ma Lolli ha un asso da giocarsi e poi ancora il caro Pedaggi un'altra sorpresa 24-25 Anas rimette in pista i rincari sembrava fatta invece no chiesti i max interessi a strada dei parchi ecco il retroscena della seconda doccia fredda e il Tar del Lazio riapre la partita degli accertamenti sui pilastri in basso la doppia delibera sblocca i rifiuti romani andranno a Chieti e a Ielli sul Mona è esclusa l'operazione costerà alla sindaca Raggi oltre 10 milioni di euro e ora la cronaca di Pescara assalto in gioielleria sono in corso le indagini caccia alle due auto dei banditi si cercano i basisti pescaresi uno dei rapinatori era travestito da donna le moto bruciate in città e qui vediamo alcuni degli scatti in particolare nella zona dell'ex FEA l'incendio delle due moto dopo la rapina i vigili che spengono il rogo all'ex FEA e poi ancora l'elicottero della polizia che avvia le ricerche i resti delle moto bruciate nel parcheggio avanti ancora con le conseguenze con le reazioni commercianti sotto shock corsa a installare le telecamere il gioieller rapinato mi sono spaventato molto ora chiedo silenzio il barista Iacomanni stavo per inseguire i banditi la gente scappava ovunque e poi ancora con un colpo che è sfumato nella giornata di ieri in particolare in via Tibullo presi dopo la tentata rapina in tabaccheria due banditi armati di coltello fanno irruzione ma la vittima esce urla e chiede aiuto coppia bloccata da finanza e polizia e poi ancora radiologia il piano della ASL nuove TAC in tre ospedali esami fino a mezzanotte quattro apparecchi e una risonanza già operativi a Pescara Penne e Popoli con il direttore di Egidio che dice abbattute le liste del 20% arrivano prenotazioni da Molise Emilia, Romagna, Lombardia Marche e Puglia e poi ancora feste senza petardi e fuochi d'artificio è entrata in vigore ieri l'ordinanza del sindaco che limita l'utilizzo dei botti da tenere sotto controllo bambini e animali intanto viabilità rivoluzionata per J-AX di vieti di transito e sosta nell'area della stazione si parcheggia sulla strada Parco di vieti che andranno in azione che scatteranno nella mattinata del 31 per il concerto all'area di risulta di J-AX e poi ancora freddo apre stasera il dormitorio allestito dal comune 70 senza tetto nei locali di Vialago Sant'Angelo gli ospiti avranno a disposizione letti, coperte e colazione le pagine di Montesilvano con lo studio sulla nuova viabilità sempre più bici in città scatta il piano anti-smog il comune sta preparando Biciplan il progetto urbano della mobilità ciclistica in programma alla realizzazione di nuovi tracciati dalla Rivera verso la Nazionale intanto il sindaco di Montesilvano Francesco Maragno premia Jonathan Tabacchiera il miglior make-up artist italiano proseguiamo siamo a Città Sant'Angelo effetto Forbes il borgo Calamitas sempre più turisti a Città Sant'Angelo appunto nel 2018 boom di visitatori dopo il lancio della rivista USA il comune realizza un sito sofisticato per offrire informazioni su hotel e ristoranti e poi tornando a Montesilvano capodanno dell'amicizia cinque aree musicali sale la febbre per la festa di San Silvestro Anconitano sarà il mio ultimo evento in Italia qui siamo invece a Francavilla piscina l'apertura slitta alla primavera cantiere aperto nel nuovo impianto che ospiterà corsi per bimbi e per la riabilitazione fitness sala pesi e olistica avanti ancora siamo in Val Pescara trasporti biglietto unico anche per Manoppello il comune chiede alla regione di estendere il territorio interessato al progetto la consigliera Toppi devono essere coinvolti anche Scafa e Letto Manoppello andiamo ora con le pagine di Chieti arriva McDonald's lavori già partiti maxi cantiere davanti allo stadio Angelini il fabbricato di due piani con servizio McDrive sarà pronto a metà del 2019 in arrivo nuovi parcheggi verde zona giochi per i bimbi previsto il potenziamento dell'illuminazione lungo la strada poi aggiunge l'assessore di Biase opportunità di lavoro per i giovani un'occasione per migliorare una parte della città e creare più movimento in basso leggiamo addio al fotografo Silvio Stella morto a 35 anni il giovane di Brecciarola stroncato dalla leucemia in pochi mesi i funerali oggi alle 10 a Manoppello ecco qui poi su pagina 28 il bilancio 2018 della questura famiglie a Nervitesi triplicate le liti il questore il questore Borzacchiello illustra i numeri del 2018 diminuiscono i furti ma aumentano le rapine crescono le espulsioni in basso a vasto via all'autovelox in funzione 24 ore su 24 il 2 gennaio partono i controlli sulla statale 16 oltre i 90 chilometri orari scattano le multe e ora siamo alle pagine di Teramo con il giallo di Santomero e la morte di Daniele Taddei il papà forse Daniele si poteva salvare lo strazio dei genitori del giovane trovato senza vita a 4 anni dalla scomparsa mille volte ho percorso quella strada e poi le parole dell'avvocato ben guardato serve un maggiore coordinamento nelle ricerche delle persone che spariscono e poi ancora in basso l'Union Alfa chiude 17 lavoratrici a casa Campli la FIOMCGL denuncia la proprietà non vuole concedere un anno di cassa integrazione e poi ancora sempre la cronaca TIR perde il carico di solvente sulla 14 automobilisti terrorizzati uno di loro ringrazia la polizia e racconta bloccati in mezzo ai fusti finiti sull'asfalto e poi in basso il bilancio della Camera di Commercio aiuti alle imprese per quasi un milione di euro lanciotti numeri importanti ma sarà difficile ripeterli se va in porto la fusione con l'Aquila e poi ancora sempre nel Terramano false cittadinanze l'ufficiale civile torna in servizio il Tribunale del Riesame revoca la sospensione rientrano al lavoro anche quelli di Roseto e Castellalto oltre che quello di Pineto e ora le pagine dell'Aquila con il caos che si è registrato ieri al San Salvatore code di due ore al CUP lira di Cialente anche l'ex sindaco in fila disagi causati da errori di valutazione tordera problemi di linea non attribuibili all'azienda e poi ancora prosegue il direttore generale per ridurre i tempi abbiamo subito attuato misure d'urgenza e richiamato un operatore per aprire un altro sportello e poi ci sono anche i consigli dei pazienti sarebbe opportuno prenotare le visite specialistiche tramite i medici di famiglia per non ingolfare le casse poi in basso leggiamo Confindustria nomina per Confindustria nomina De Bartolomeis ha ricaricato la pardon ha ricoperto la carica ad Interim ora è stato scelto all'unanimità alla direzione dell'associazione e chiudiamo con quest'ultima pagina prima di andare in pubblicità precipita per 150 metri grave alpinista si tratta di un ternano di 67 anni che ha perso l'equilibrio finendo sul compagno di cordata aquilano ferito lievemente poi a Sulmona Fusco uniti su Tribunale e Punto Nascita primo anno del Vescovo Monsignor Michele Fusco aiutiamo deboli e bisognosi e i politici recuperino il loro ruolo di collante del territorio noi ci fermiamo qui con la prima parte di mattino 6 ci ritroveremo tra poco dopo le previsioni del tempo e la pubblicità per sfogliare messaggero la città e vedere altri servizi di nuovo buongiorno seconda parte di mattino 6 che riprendiamo con il messaggero Abruzzo e la vicenda del caropedaggi Anas blocca tutto rincari più vicini quando l'accordo per congelare gli aumenti sembrava fatto l'azienda ha chiesto l'applicazione di un tasso di interesse alto oggi usciranno i decreti che sanciranno il più 5,8% ancora pochissimo tempo per arrivare a definire una intesa e poi ancora l'analisi di Stefano Cianciotta ma il vero nodo è la ridefinizione del contratto con i concessionari la manutenzione è un argomento sempre più centrale nella gestione delle infrastrutture come dimostra Genova e proseguiamo e siamo alle pagine di Pescara assalto in gioielleria caccia alla banda erano tutti italiani indagini sulla rapina officine complicato in piazza salotto visionate le immagini delle telecamere testimoni sotto shock mala in trasferta avevano un accento del napoletano gente organizzata che ha agito su commissione e poi ancora sgomento e paura tra i commercianti che chiedono azioni più efficaci per la sicurezza poi il colpo sventato in via Tibullo Tabaccaia reagisce dall'allarme finanza e polizia fermano i banditi poi ancora due nuovi apparecchi per radiologia esami più veloci e diagnosi più precise al santo spirito di Egidio l'obiettivo ora è accorciare i tempi di attesa il manager Mancini ha illustrato le novità per gli ospedali di Penne e Popoli due TAC sostituite e risonanza magnetica grazie a un accordo con la d'annuncio la struttura accoglierà gli specializzanti di Chieti vediamo il servizio del TG6 professor De Giglio vogliamo spiegare questa mattina quello che illustrerete si parla di novità diagnostiche organizzative della radiologia dell'ospedale di Pescara abbiamo messo due nuove TAC da 128 strati e in procinto di essere aggiudicata la risonanza da tre Tesla e insieme alle due università abbiamo fatto un piano formativo che abbiamo dato il nome radiologia 4.0 per cercare essendo io stato nominato come presidente del gruppo regionale dei radiologi abruzzesi per omogenizzare tutte le procedure tecniche cioè l'esame fatto a un certo livello deve essere uguale sia a Pescara sia a Chieti sia all'Aquila sia a Terra e questo rientra in questo progetto di tecnologia informatizzata e intelligente di radiologia 4.0 questo è possibile con l'ausilio delle nuove tecnologie noi lo stiamo facendo su tutte e due le TAC e più facilmente eseguibile su procedure eseguite in acuto e iperacuto come noi siamo il punto di riferimento per l'ictus per il trattamento endovascolare dell'ictus degli aneurismi e delle mavi cerebrali a tal proposito abbiamo stilato un accordo da poco che sarà sottoposto e bagliato dalla nostra direzione generale con l'ospedale di Termoli e Campobasso naturalmente tutto questo che cosa comporta? Comporta un'accelerazione nell'esecuzione degli esami in maniera tale che viene fatta allo stesso modo da tutti e una riduzione anche di quelle che sono le liste attese noi riusciamo con le nuove tecnologie che abbiamo acquisito in questo ultimo anno e anche nel 2017 riusciamo finalmente a invertire una fuga verso l'esterno per quanto riguarda le diagnostiche radiologiche e anche per la terapia che in radiologia si può fare la radiologia interventistica quindi riusciamo ad invertire questo flusso e questo è un vantaggio non tanto economico per l'azienda quanto per l'utenza che non deve più recarsi fuori per fare alcune analisi alcuni tipi di esami sempre sul messaggero la sinfonica di Martin al gran concerto per l'AIL alle 21 al massimo l'orchestra diretta dal maestro Antonella De Angelis con il sonista Claudio Sant'Angelo Domenico Cappucilli dell'AIL dice grazie al sostegno della fondazione abbiamo istinto il mutuo per la casa dell'associazione e poi ancora andiamo sempre nella pagina successiva l'argomento è sempre la cronaca cronaca giudiziaria Rigopiano sette indagati per depistaggio l'ex prefetto Provolo coinvolto con due vice vice prefetti e altri dirigenti del centro coordinamento per i soccorsi l'indagine bis è partita dalla telefonata fantasma di D'Angelo che è stata cancellata dalle carte ufficiali caduta nel vuoto la chiamata del cameriere nella mattinata poi l'equivoco è tutto risolto come abbiamo già visto in precedenza c'è questa lettera della piccola Gaia alla madre una delle vittime una delle 29 vittime del resort Gaia alla mamma sei la mia stella luminosa e la figlia di matrone scrive appunto a Babbo Natale e poi ancora a Montesilvano alzati i piloni di sostegno al terzo ponte sul Saline in dirittura d'arrivo a Montesilvano il collegamento con la sponda angolana ma diventa urgente integrare il progetto l'intervento realizzato con una enorme gru della ditta di Prospero apertura ad aprile e poi ritroffiamoci nell'atmosfera del Natale con il prossimo servizio che preannunciamo con questo articolo a Cavaticchi di Spoltore si ripropone lo spettacolo del presepe vivente vediamo ormai un appuntamento tradizionale del Natale il presepe vivente di Cavaticchi giunto alla quinta edizione sindaco un appuntamento davvero importante per la vostra comunità assolutamente sì noi quando avevamo definito questa manifestazione già dal primo anno nato in condizioni particolari in un'area che abbiamo tutti insieme provveduto a bonificare a sistemare perché era un'area abbandonata e da lì è nata appunto questa bellissima manifestazione che rappresenta appunto la natività e avevamo in mente e credo ci siamo riusciti anche se possiamo ulteriormente migliorare insieme appunto a tutti gli abitanti di Cavaticchi allo straordinario supporto di Don Mario Probi della parrocchia di Santa Teresa siamo riusciti potendo ulteriormente migliorare a farne uno dei punti della cultura della città di Spoltore quello che andremo a rappresentare è sì diciamo la classica rappresentazione della natività però lo facciamo col cuore quindi mettendoci enfasi perché crediamo effettivamente in questo viaggio che ogni persona compie prima all'interno di se stesso e poi dopo che insomma uno si è migliorato ha cercato di dare il suo meglio può veramente andare a incontrare il Signore e stabilire con Lui un rapporto di amore per poterlo condividere anche con i fratelli il 29 appuntamento a Cavaticchi il posto denominato Lipratic proprio dalla conformazione diciamo del paesaggio prende questo nome Pagine dell'Aquila sempre sul messaggero Maxi sede cittadina a rischio il governo dimezza i fondi allarme lanciato dalla Presidente Melandri andrebbe ridimensionato il progetto l'Aquila la riduzione è prevista nella legge di bilancio che ridurrebbe le risorse ad appena 500 mila euro cala un'ombra pesante sul progetto che dovrebbe essere ospitato a Palazzo Ardinghelli e poi in taglio medio Verdeacqua opposizione all'attacco danno gravissimo critiche alla giunta tempi lunghi per la riapertura è un mutuo milionario in basso antenna di Pagliare sollecitata la rimozione avanti ancora CUP e vaccinazioni lunghe file e disagi personale in sottonumero e un guasto alla rete internet hanno causato una serie di disservizi nelle prestazioni il manager Asle Tordera ha annunciato subito i correttivi tecnici al lavoro per riparare il blackout turni potenziati avanti con le vicende legate al comune di Capistrello sciolto il consiglio arriva il commissario dopo la bufera degli appalti a Capistrello il prefetto nomina una funzionaria le prossime elezioni fissate a maggio indicata Maria Concetta Ruffo che arriva dalla prefettura dell'Aquila adesso i tempi canonici per procedere allo scioglimento dell'assise siamo a Chieti boom in città di liti in famiglia spesso i vicini danno l'allarme calano i furti le rapine sono in aumento stretta sulle licenze per il porto d'armi oltre 22.000 le chiamate al 113 in un anno cresce il numero di pattuglie sul territorio ieri appunto il bilancio del questore Borzacchiello sulle attività delle forze di polizia il servizio del Tg6 stamani il questore di Chieti Ruggero Borzacchiello nel corso di una conferenza stampa ha tracciato un quadro sulle operazioni e sulla situazione dell'ultimo anno un anno positivo è stato contrassegnato anche da alcune vicende che hanno comportato uno sforzo superiore da parte della Polizia di Stato e delle forze dell'ordine in generale mi riferisco ovviamente ai tragici fatti della rapina di Lanciano ma fortunatamente con il lavoro la dedizione il sacrificio e un apporto da parte del nostro Dipartimento siamo riusciti appunto con le altre forze dell'ordine a risolvere il caso è chiaro l'attenzione massima è sempre riferita al territorio non solo del capoluogo ma anche della provincia lo testimonia il fatto che sono aumentate il numero delle pattuglie sul territorio è aumentato il numero delle persone denunciate le chiamate al 113 il che mi fa pensare ad una maggiore collaborazione da parte della collettività da parte di tutta la cittadinanza teatina ed è importante sottolinearlo perché ripeto ognuno deve fare la propria parte qualche zona magari va tenuta maggiormente sotto controllo le zone di spaccio molto spesso si prestano perché se c'è un degrado della zona un abbandono sia dal punto di vista delle strutture commerciali sia dal punto di vista di eventi organizzativi di eventi di incontro di aggregazione è chiaro che questi favoriscono ovviamente poi l'utilizzo di queste zone di spaccio sempre nella pagina di chieti del messaggero al teatro marucino Christmas Sons domani pomeriggio concerto di fine anno dell'orchestra sinfonica abruzzese stasera a tutto rock allo Stamptish e poi ancora siamo a Vasto a punta penna rispunta l'autovelox mercoledì in funzione sulla statale 16 l'impianto multirader sanzionerà chi lungo l'adriatica non rispetta il limite di 90 km orari il comune spera di poter porre rimedio alla pericolosità del tratto stradale in passato scenario di incidenti mortali le pagine di Teramo nel 2019 partirà il progetto del nuovo ospedale Teramano il DG Fagnano soddisfatto per le nuove assunzioni per quanto riguarda primari medici e infermieri investiti 531 milioni sul territorio migliorate le attrezzature con macchinari d'avanguardia sono state bandite 27 gare europee 311 contratti per le forniture pari a 71,7 milioni ottimo ottimi risultati commenta Fagnano e poi ancora centropagina capodanno vietati di spray urticanti in piazza contapersone per l'afflusso in piazza massimo 4.000 posti Ermal Meta e Tarantale grandi star proseguiamo siamo l'ultima pagina di cronaca del messaggero che vediamo Daniele è morto dopo una lunga agonia si infettisce il mistero del ritrovamento in un canneto a tortoretto del corpo del 28enne nella sua utilitaria Taddei scomparso il primo agosto di 4 anni fa forse è stato vittima di un incidente stradale esploso l'airbag poi ancora a Giulianova leggiamo scuola di Colleranesco la procura detta i tempi lasciamo il messaggero andiamo ora sulla città partiamo da pagina 5 argomento sanità il problema della ASL resta il turnover primari medici tecnici concorsi non bastano a sostituire le figure professionali necessarie nelle strutture azienda virtuosa la prima per numeri fatturato di tutta la provincia di Teramo con importanti investimenti sul territorio vediamo il servizio del TG6 l'ASL di Teramo brinda i risultati raggiunti nel 2018 40.000 ricoveri eseguiti e circa 6 milioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate 600 contratti di assunzione di cui 253 a tempo indeterminato 30 cantieri aperti oltre 200 iniziative formative attività di prevenzione e 1800 prelievi di acqua ad uso umano siamo riusciti a raggiungere risultati importanti in una condizione di equilibrio economico abbiamo assunto a tempo indeterminato 235 persone che non è un fatto irrilevante nel panorama delle pubbliche amministrazioni italiane e soprattutto abruzzesi è stato un anno difficile per la complessità spesso delle procedure amministrative che all'esterno non si percepisce ciò nonostante abbiamo nominato nuovi primari abbiamo apportato nuove professionalità abbiamo inaugurato operazioni anche di tecnologia significative quale le risonanze magnetiche che nel 2019 avranno ancora ingresso in maniera consistente a Teramo a Santomero e ad Atri quanto ha speso quest'asle quanto ha investito nel 2018 quest'anno tanto circa 550 milioni di euro abbiamo speso che in pratica rappresenta il nostro bilancio e l'azienda vuole investire per dare una sanità migliore al territorio che merita tutto che sanità dà questa asla di Teramo penso di poter affermare che dà una buona sanità assolutamente buona sanità per tanti aspetti intanto abbiamo delle discipline uniche e naturalmente quando parliamo di radioterapia parliamo di radiologia interventistica cioè sono discipline che noi abbiamo e che abbiamo il piacere di continuare ad avere perché lì possiamo declinare forse anche il termine eccellenza però tutte le discipline chirurgiche a cominciare dalla neurochirurgia che ci piace continuare ad avere che ci terremo stretta la cardiochirurgia dove abbiamo il nuovo primario le chirurgie generali per le quali stiamo rinnovando per i quali stiamo rinnovando i primariati sicuramente un'oncologia degna di questo nome ma molto degna di questo nome perché ce la invidiano a livello nazionale la medicina che nelle varie declinazioni ci pone di fronte a tante possibilità perché la medicina l'internistica è un mondo un mondo a sé stante un mondo enorme però anche lì noi siamo all'avanguardia proseguiamo con la città il Capodanno in piazza torna numero chiuso massimo 4.000 accessi per le tre serate evento conta persone ai varchi vietati botti e spray al peperoncino ecco i tre appuntamenti del Capodanno Terramano il 30 dicembre Cristina D'Avena ore 21.30 poi Saltarello e Taranta il 31 dicembre dalle 22 quindi il concerto di Ermalmeta il primo gennaio a partire dalle ore 18 poi ancora la Camera di Commercio dai numeri il presidente Lanciotti fa il bilancio annuale con un occhio alla fusione con l'Aquila Lanciotti guarda ai ricorsi in atto contro la fusione delle Camere di Commercio felici nell'autonomia dice Lanciotti e poi ancora per la politica a caso Marcozzi ennesima figuraccia del PD il presidente del partito ringrazia Madeclina mi candido ma solo con la lista Legnini e con D'Amico proseguiamo e siamo alle notizie dalla provincia in particolare da Campli Union Alpha chiude a rischio 17 lavoratrici l'azienda decide di fermare lo stabilimento Farnese unica possibilità il trasferimento nelle marche e poi le parole del sindacato riteniamo che sia assolutamente necessario che l'azienda torni sulle proprie scelte e nell'incontro del 9 gennaio si riesca a chiudere in maniera soddisfacente una vicenda e poi a proposito di vicende quella legata alla scomparsa di Daniele Taddei autopsia e DNA per chiarire il mistero l'esame sui resti del giovane scomparso sarà affidato questa mattina al dottor Giuseppe Sciarra l'auto e i resti del giovane di Santomero sono stati trovati da un cacciatore a 4 anni dalla sua scomparsa apriamo la parentesi dello sport sulla città Spighi striglia il Teramo pochi 20 punti tornato titolare a Terni centrocampista Biancorosso analizza la prima parte di campionato in vista anche dell'ultimo match dell'anno contro il Sud Tirol ultimo appuntamento prima della sosta del campionato poi si tornerà in campo il prossimo 19 gennaio ma il Teramo domani ospita il Sud Tirol per il basket vediamo Rullo Roseto Trentello rifilato a Ferrara gli Sharks demoliscono gli emiliani si regalano un fine anno positivo il terzo quarto scava il solco decisivo uno sguardo rapido anche alle testate sportive nazionali dal caos al campo dopo la notte più buia di San Siro torna il campionato si chiude l'andata Allegri per la tripla cifra nel 2018 Nainggolan castigo finito Milan conta solo vincere e poi sotto la testata leggendari Paris in hofer perfetti storica doppietta sullo Stelvio poi ancora il Corriere dello sport capitano mio capitano si torna in campo due sono gli avversari razzismo e violenza l'anno e il girone in andata si chiudono con l'estensione dell'invito rivolto alla Serie A dal sindaco di Milano Sala e poi in taglio medio PSG 80 milioni su Allan Napoli Varela l'offerta poi tutto sport Juve e Max United dalle 12.30 Juve Sampa Allegri respinge le losinghe del Manchester poi CR7 il calcio per Coulibaly dopo Ibu a San Siro ieri questa foto postata sui social da Cristiano Ronaldo e poi sotto la testata Toro Piason avanti con la Lazio per volare e poi il Milan Forza Gattuso Paquetà io come Kakà rapidamente torniamo sulle testate locali andiamo sul centro ora il Pescara non si accontenta quota 30 punti era l'obiettivo alla fine del giro in andata ma Pilon fiuta il colpo alla Rechi l'allenatore chiede la svolta in trasferta di fronte a due squadre che si scatenano nei secondi tempi Granata hanno segnato 16 gol su 19 nelle riprese i Biancazzurri 18 su 25 poi il Crotone richiama Stroppa Bisoli torna al Padova dopo le dimissioni di Oddo a Crotone e l'esonero di Foscarini a Padova in basso leggiamo Leone firma per la Ternana via libera a Repetto per la serie C Mantini e De Grazia forse titolari domani su Tirol fuori Ventola squalificato il centrocampista rientrerà dal primo minuto dopo l'inattesa panchina di Terni domani appunto alle 14.30 Teramo su Tirol e poi per la serie D De Angelis notaresco sorpresa del girone per il basket di A2 abbiamo visto Roseto Stradipante vince a Ferrara con 30 punti di scarto 59 a 89 e poi per la palla a nuoto di Fulbio da applausi un 2018 sempre in gol l'ultima volta a secco in campionato risale al maggio del 2017 giocatore pallanotista pescarese della formidabile Pro Recco uno sguardo anche al messaggero Abruzzo nelle sue pagine di sport ecco qui Leone se ne va bye bye Delfino ieri ha salutato il mister e la squadra il nuovo direttore sportivo della Ternana i biancazzurri nel mercato di gennaio saranno rappresentati da Sebastiani poi le parole di Pilon contro la saernitana sarà battaglia Antonucci e Scognamiglio che progressi buone cose a sinistra contro il Venezia dove la catena terzino mezzalala ha creato superiorità numerica e insidie e poi ancora per la serie C 20 punti Teramo dovevamo fare di più Spighi molto deluso dal bilancio del giro in andata e domani arriva il Suttirol Fiori Daliso in gol a 19 anni purtroppo non è servito ma con la Ternana ci può stare di spalla De Paulis L'Aquila ti riporteremo in alto istituzioni assenti per l'amichevole con la matrice post-sisma per il basket amatori alle Final 8 ma non esaltiamoci dice il vicepresidente Luca Donofrio e poi per i direttanti mercato dei direttanti in BUP un senegalese da Francavilla di Natale a Chieti ci fermiamo qui con la rassegna stampa di mattino 6 vi ricordo gli appuntamenti con il TG6 nelle edizioni odierne delle ore 14 delle ore 19 delle ore 23 vi ricordo anche l'appuntamento di domani con diretta a stadio dalle 14 20 circa seguiremo in particolare le partite del Teramo che ospita alle 14 30 il Suttirola allo stadio Bonolis e poi il Pescara che alle ore 15 giocherà allo stadio Arechi di Salerno contro la Salernitana è tutto grazie anche a Maurizio De Guì in regia buon proseguimento di giornata grazie a tutti Grazie a tutti.